25 nuovi contagi da coronavirus in Friuli, Venezia, Giulia, dove i casi attivi sono complessivamente 342. Si tratta soprattutto di casi di rientro da paesi a rischio, almeno una decina, soprattutto Kosovo e Romania. Tra i positivi anche tre migranti, di cui uno a Trieste. Altre positività riguardano parenti o amici di persone già affette dal covid. Al momento però nessuna persona in terapia intensiva in regione, mentre vi sono 13 ricoverati in altri reparti. Da segnalare anche i sei contagi, tra cui sia italiani che stranieri, fra i dipendenti di ditte esterne della Fincantieri di Monfalcone. Gran parte di questi sono rientrati da paesi a rischio. Ora è scattata tutta la trafila dei tamponi sui contatti degli operai in uno stabilimento che ha riaperto le porte a Panzano, dopo aver attivato strettissimi protocolli anti-covid, dalla blindatura degli ingressi con percorsi dedicati alla misurazione quotidiana della temperatura. Va ricordato che, peraltro, 144 sono gli operai già in quarantena per essere rientrati da località a rischio. Quanto alla vicina Croazia, dove l'epidemia sta toccando livelli di forte allerta, un'altra giornata sopra i 300 contagi, sempre considerando un basso numero di tamponi mediamente effettuati. Dopo i 356 di ieri, oggi si è toccato quota 304 nuove infezioni, con 13 persone in terapia intensiva polmonare. I casi riguardano soprattutto case per anziani, centri fitness, ristoranti e tifosi di eventi sportivi. Da qui la decisione di Zagabria, già operativa, di rendere obbligatoria, in particolare nella Dalmazia centrale, l'uso della mascherina al chiuso, lo stop ai concerti e alle manifestazioni sportive, nonché tutte le altre prescrizioni atte evitare assembramenti a feste, matrimoni e funerali.